signore buongiorno e benvenuti in questa puntata di tg india chilo eco doverosa doverosa perché c'è un piccolo aggiornamento da parte del mimit da parte del ministero per le industrie e per il made in italy di solito non lo dico ma invece questo caso lo dico ricordate di scrivervi commentare mettere il mi piace se il tg che vi è piaciuto e per non perdere ulteriori aggiornamenti orso dunque cosa è successo cosa è successo facciamo una piccola premessa allora fino ad oggi fino ad oggi per il pagamento di tutti i contributi che dovevamo in quanto radio motorio ovvero i famosi 5 euro per chi ha ancora in essere l'autorizzazione generale oppure i 50 euro una tantum per le nuove autorizzazioni generali spero siate un po aggiornati su questo ne avevamo parlato sul canale fino ad adesso tutti questi pagamenti andavano fatti tramite bonifico ai vari ispettorati adesso non è più così non è più così perché il buon mimit ha inserito un aggiornamento ovvero sostanzialmente poi ve lo metterò a video è stata istituita questa piattaforma incassi per l'amministrazione dello stato ovvero in buona sostanza non sarà più possibile utilizzare i cari vecchi iban che conoscevamo quindi le modalità appunto solite ovvero i 5 euro pagati entro il 31 gennaio tramite bollettino bonifico quel che è e compagnia cantante andranno a decadere ma sarà in realtà possibile fare solo esclusivamente i pagamenti tramite questa piattaforma che sarà che si trova sul sito di poste punto it ho fatto un pensiero lunghissimo e mi sa che ho fatto qualche inciampo ma va bene lo stesso penso che il concetto sia passato allora vado a leggervi vi metto a video la pagina del sito del mimit che ovviamente vi lascio in descrizione quindi sotto la descrizione del video trovate il link con tutto quello di questo parlando in questo momento allora eccoci qua siamo sulla pagina dedicata ai radiamatori sul sito del ministero per le industrie per il made in italy e come potete leggere qua in evidenza modalità per effettuare il versamento dei contributi per le autorizzazioni generali per l'attività radiomatoriale e del contributo per sostenere l'esame per il conseguimento della patente radiomatoriale piattaforma incassi per le amministrazioni dello stato per effettuare i versamenti di somme destinate al bilancio dello stato e tra cui quelle relative alle attività radiomatoriali i cittadini e gli enti privati devono utilizzare la procedura informatica piattaforma incassi resa disponibile da posti italiani spa tra i servizi online ecco notate bene questo e mi raccomando pertanto i codici IBAN o conti correnti postali intestati alle tesorerie provinciali dello stato in precedenza utilizzati per effettuare i versamenti non potranno più essere utilizzati a causa della loro cessata operatività la procedura informatica della piattaforma incassi per adempiere al pagamento delle somme dovute è accessibile seguendo indirizzo eccetera eccetera cliccando su paga online ed entrando nella sezione altri pagamenti per accedere al servizio paga online è richiesta la registrazione nel sito poste punto it ecco sotto poi ci sono i tre altre tre spiegazioni per quanto riguarda appunto il contributo una tanto il contributo annuo per i riponti ripetitori e il contributo per l'iscrizione all'esame ok questo è quanto è molto semplice ribadisco vi lascio il link non viene menzionato il discorso di quelli come me che hanno ancora l'autorizzazione generale in essere quindi fino alla scadenza devono pagare i 5 euro ma stante le cose come erano in teoria penso che sia esattamente la stessa cosa ovvero anche noi che dobbiamo ancora pagare 5 euro effettuiamo questo pagamento su questa piattaforma purtroppo non è menzionato ecco diciamo che il mimit staff sta avendo una comunicazione migliore rispetto a prima molto migliore le cose sono un po più chiare però in questo caso si sono dimenticati un pezzo quindi gentili signori del ministero se volete metterci una pezza noi siamo contenti anche noi poveri cristi che se no non lo capiamo comunque vi vado a prendere invece i contributi dove diceva in un vecchio aggiornamento del discorso pagamento ovvero quando è stata inserita l'una tantum e così c'era segnata un'altra cosa la misura allora vi adesso vi metto anche questo a video così lo leggiamo assieme e io ribadisco credo che resti così la cosa ovvero per l'autorizzazione generale di stazione dell'automatore dovuto il pagamento di un contributo una tanto un pari a 50 euro da versare eccetera eccetera tra parentesi c'era scritto per le attualizzazioni generali di stazione di radiomatori in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto rimane a carico dei relativi titolari l'obbligo contributivo anno di 5 euro fino alla loro naturale scadenza quindi va da sé anche questo lo trovate sempre sulla stessa pagina va da sé che nulla dovrebbe essere cambiato per i nostri 5 euro e tutto qua semplicemente signore la cosa è questa facciamo un recap veloce ricordatevi da adesso in poi non sarà più non saranno più attivi tutti gli IBAN degli ispettorati territoriali per i vari pagamenti appunto i 5 euro famosi i 50 euro una tantum i 20 euro dei ponti radio l'iscrizione all'esame ma sarà attivo questo servizio che trovate in descrizione così andate a vedervelo anche voi ci sono tre va de me confatti dal ministero sempre sulla pagina su cui cliccare tra pdf per ogni cosa è abbastanza chiaro e niente tutto qua signore diffondete il verbo così di modo che anche i vostri colleghi non si trovino impreparati e basta finito molto semplice e molto easy grazie ministero io la trovo un'innovazione comoda alla fine basta registrarsi sul sito delle poste fare un pagamento invece di starle il bollettino e va in posta e così cosa comunque è lo stesso possibile recarsi in posta con questa con questa modalità ci si può comunque recare in posta ma è spiegato nel appunto nei va de me con quindi non è escluso totalmente il discorso di andare fisicamente a fare ad effettuare questo pagamento quindi magari chi non è proprio abbezzo all'informatica può comunque avere una modalità alternativa niente ragazzi detto ciò grazie mimit che ci tiene in considerazione spero di avervi fatto cosa gradita aggiornandovi su questa cosa grazie per aver visto il video se vi è piaciuto mettete un bel mi piace e iscrivetevi per restare aggiornati da india uniform 2 india chilo eco è tutto per tg india chilo eco questa sera abbiamo finito ciao ragazzi buon tutto